Musica Nicola Babescio. Non so se hai notato, ma ultimamente ho perso qualche capello. Meno male che me l'hai detto. Io ti guardavo e dicevo qui manca qualche cosa. Ma spesso i capelli cadono anche per lo stress. Peccato che non sono stressato. Tu no, ma evidentemente allora ero tipo i coglioni. Ti metti di fronte alla tua dolce metà, lei ti lancia il lenzuolo puntualmente, e lei ha due lembi e tu uno. Come uno? Ma come cazze, ha triangolo su lenzuolo. E ti temmortmo. Preferisce un vino da collezione? Dipende da quanti punti ci voglio. Qui tutta gente di un certo livello. Di un certo? Li-ve-llo.